Patreon è molto più di un sito per guadagnare qualche extra ogni mese Patreon è la chiave per creare la tua community con i tuoi fan, i tuoi lettori che vogliono seguirti e vogliono supportarti quindi vediamo subito che cos'è Patreon e come funziona che cos'è Patreon? Patreon è una piattaforma relativamente nuova è stata lanciata pochi anni fa ed è orientata ai creatori di contenuti soprattutto artisti, quindi per esempio non solo musicisti ma anche per noi scrittori come funziona? In questa piattaforma i tuoi fan si iscrivono e poi possono scegliere alcuni tier, questi sono dei piani diciamo che tu li proponi con il prezzo li imposti tu eccetera eccetera e in cambio quindi del loro supporto diciamo monetario tu puoi provvedere a fornirgli dei certi servizi o certe creazioni su misura quindi contenuti esclusivi per questi Patreon perché ovviamente si tratta di diciamo super fan persone che vogliono dedicare di più il loro tempo e anche quindi il loro risparmi diciamo per te perché adorano quello che fai e vogliono vogliono conoscerti di più, vogliono avere più dei tuoi contenuti ok? Quindi allora intanto bisogna specificare che Patreon al momento è disponibile solamente in inglese ok? Però comunque anche in Italia piano piano sta cominciando a prendere piede perché? Soprattutto perché il problema è stato è venuto diciamo da YouTube quindi su YouTube i creatori di contenuti si ritrovavano magari con migliaia, centinaia di migliaia a volte milioni di visualizzazioni e poi andavano a vedere e nel conto in banca non c'era quasi nulla magari 100 dollari, 200 dollari no? e quindi è nata questa esigenza di creare un ponte diretto tra i creatori di contenuti, gli artisti e la loro community quelli che sono interessati ai loro prodotti artistici ok? Ecco perché appunto è nato Patreon e quindi trovi un sacco di YouTuber anche in Italia che si affidano a Patreon ok? Quindi insomma sì se il problema, uno dei problemi può essere che è in inglese poi dopo ti faccio vedere com'è e come funziona è abbastanza facile e intuitivo non è che ci voglia una gran scienza insomma l'altra cosa appunto è che in Italia seppure sta cominciando a diffondersi se ne sente parlare però non è diciamo straconosciuto ancora però comunque secondo me può essere una buona piattaforma su cui provare provare a vedere un po' come va e poi in caso uno può sempre diciamo chiudere bottega e chi si è visto si è visto almeno ci ha provato e ha capito ha imparato qualcosa di più questo è importante l'importante è portarsi avanti imparare cose nuove sperimentare e insomma usare la nostra creatività ok? allora dunque questo qua giusto userò come esempio questa è la pagina che al momento sto creando anch'io su Patreon per scrivo facile pagina che tra l'altro sarà rilasciata a breve probabilmente già domani e dunque niente quindi qua puoi vedere io adesso lo sto guardando come se fossi un esterno quindi i tuoi fan troveranno la pagina la visualizzeranno in questo modo quindi vedranno il banner la foto che tu hai impostato e di che cosa ti occupi quindi nel mio caso scrittura giornalismo e communities ok? e poi qua ci sono i tipi di membership abbonamenti tiers o piani come ti pare ok? eccoli qua dopodiché ti dice il numero dei patrons quindi le persone che ti supportano e poi qui puoi mettere i tuoi link se vuoi insomma condividerlo e andare a vedere la pagina qui ecco per condividerlo è share oppure puoi seguirlo e qui invece vai a vedere la pagina facebook o di altri social media impostati del relativo artista ok? quindi poi qui ci abbiamo about quindi di chi si parla parliamo un po' di noi no? qui è la nostra presentazione molto importante qua dire che cosa che cosa ci facciamo qua su patreon e chi siamo ok? e poi possiamo andare a vedere i nostri goals quindi gli obiettivi ok? quindi io per esempio adesso ho impostato un obiettivo abbastanza basso 30 patrons tanto per vedere un po' come va ok? e in questo modo poi la gente vede che c'è un motivo specifico e c'è un goal specifico da raggiungere quindi può essere più motivata ad aiutarti perché si tratta poi di fan di super fan che ti seguono no? e quindi se vedono che tu hai un goal hai un obiettivo da raggiungere vogliono vogliono aiutarti non è solo perché ti pagano allora in cambio esigono il tuo il tuo impegno per creare contenuti esclusivi e anche proprio gente che ti supporta ama quello che fa vuole aiutarti ok? quindi questa è la rivoluzione di patreon diciamo e dopodiché vediamo qua qui ci sono dei post se tu ne hai impostati alcuni pubblici quindi si possono vedere e qui ti dice un po' come funziona allora facciamo finta che io come vedi qua non sono iscritto voglio acquistare un piano a caso ok? guardo che cos'è show more vediamo un po' qui vedo quello che c'è e clicco su join perché mi interessa questo ok? dopodiché come faccio a iscrivermi? semplicissimo posso iscrivermi con google con facebook oppure qua con nome e l'email e la password finito tutto il resto arriva praticamente in automatico comodamente nella casella email ok? quindi è comodissimo così è veramente comodissimo adesso però andiamo a vedere cosa c'è dietro le quinte come funziona come è questa piattaforma ecco qua quindi questa qua come vedi sono logato e qui abbiamo la nostra home ci dice nella dashboard quanti patrons abbiamo quanto abbiamo guadagnato questo mese eccetera eccetera qui possiamo fare creare i nostri contenuti magari il testo oppure delle foto delle immagini perché è bello anche magari semplicemente condividere immagini personali con i nostri fan no? poi video oppure puoi fare anche delle live sono molto molto potenti è bello creare proprio questa connessione diretta istantanea con i nostri fan con i nostri lettori oppure possiamo magari condividere audio se abbiamo un podcast possiamo condividere un link o anche fare dei sondaggi questo è molto importante perché una delle chiavi del successo di patron è proprio il fatto anche di sapere esattamente che cose si aspettano da te i tuoi supporter ok? a cosa sono interessati qui puoi aggiungere se hai una location eccetera ma a noi non ci interessa qui c'è il nostro link questo è il link che tu andrai a condividere con i tuoi lettori lo puoi condividere sui social media oppure magari attraverso la newsletter come farò io ok? quindi basta copiare il link il link è questo qua ok? poi dunque qui ti aiuta sempre puoi annunciare la tua pagina ai tuoi fan su facebook twitter quello che è puoi creare delle grafiche ok? ma nel mio caso mi sono affidato a Canva quindi va bene così allora qui andiamo a vedere nei settings quindi le impostazioni andiamo a vedere queste impostazioni ecco qua qui c'è il tipo di account ci sono vari piani che ti propongono vedi c'è il piano light quindi Patreon si tiene soltanto il 5% ok? dei tuoi profitti però comunque è un po' più meno funzionalità che puoi utilizzare oppure io ho scelto quello all'8% quindi Patreon trattiene di più però comunque mi dà tutte le funzionalità se invece ti interessa quello premium 12% però questo qua è già a livelli un po' troppo alti quindi a noi secondo me per cominciare o light oppure il pro ok? e qui ti dice come funziona il pagamento quindi se pagano adesso questo sarà importante per stabilire i prezzi no? se pagano da meno di 3 euro al mese i tuoi patrons significa che tu andrai a pagare il rate il tasso di interesse sarebbe il tasso scusa di che vai a pagare la percentuale 5% più 0,15 ok? questo è quando quando paghi ok? ci sono devi pagare delle delle fee diciamo se invece è più di 3 euro andrai a pagare di meno quindi 3,4% quindi in percentuale più un 0,35 euro ok? puoi stoppare i pagamenti ok? e puoi cancellare la pagina stoppare la pagina ok? cliccando qua su un launch se c'è qualcosa che non va non ti interessa più non ce la fai più puoi fermare tutto ok? sia i pagamenti che la pagina in sé andiamo a vedere qua su invece qui se puoi avere dei team ma a noi non ci interessa abbiamo delle app ma qui non sono presenti per noi notifiche scusa notifiche via email qui e poi le tasse e come riceveremo i soldi ok? quindi è integrabile tranquillamente con paypal adesso invece andiamo a vedere qua per esempio ci abbiamo patrons io ancora non ce li ho perché lo devo lanciare domani e questo ci interessa ecco qua la nostra pagina andiamo su edit page quindi modifica la pagina ecco e come puoi vedere qui metti il nome della pagina ok? quindi nel tuo caso come autore metti il tuo nome di che cosa ti occupi ok? e poi qui se sei una persona sola metti is creating se siete tante persone metti are creating quindi nel nostro caso è is creating giusto? la foto la foto del profilo la cover ok? qui puoi personalizzare il tuo indirizzo patreon ok? e qui appunto inserisci la descrizione di te e della tua pagina puoi anche inserire un video di introduzione io te lo consiglio perché aumenta l'engagement è molto carina come idea no? tu arrivi su questa pagina c'hai subito un video vedi negli occhi la persona che vuoi supportare e quindi si crea si rafforza questo rapporto tra di voi questa connessione no? dopodiché qui ti dà la checklist che ti aiuta in sede di creazione quindi abbiamo settaggio del nome della pagina creazione della headline il titolo verifica delle mail caricamento della immagine di profilo la cover nella descrizione della pagina finire completare i dettagli dell'account verificare il numero di telefono ok? qui abbiamo i tiers che è quella cosa principale che ci interessa a noi io personalmente appunto come visto prima per i prezzi da impostare ti consiglio di partire da almeno 3 euro al mese perché comunque molti fanno l'errore di proporre anche un euro semplicemente pensando che così hanno più patrons ma in realtà alla fine vai a guadagnarci meno della metà e quindi magari ti devi sbattere fare un sacco di lavori per guadagnare solo le briciole va bene ok che c'è una connessione rafforzi questo senso di comunità con i tuoi fan però insomma anche il nostro tempo non va svalutato anche perché poi agli occhi delle persone è più svalutato così sembra che vai a lemosinare per favore datemi un euro che in realtà ne guadagni anche meno di 50 centesimi secondo me non è una buona strategia poi vedi tu quindi niente puoi decidere che cosa offrire ok qui c'è una descrizione che tu fai e qui invece proprio schematico le cose che vai a offrire quindi per esempio vogliamo aggiungere uno clicchiamo qui add tier io poi mi sbagliavo dicevo sempre tier qui imposta il prezzo il titolo ok e qui che benefit ci sono io ce li ho già preimpostati però puoi cliccare su aggiungi qui ce ne hai altri che puoi aggiungere vedi lui te ne consiglia oppure clicchi qua per vederli tutti quanti ok oppure fai custom benefit cioè personalizzato poi vedi tu come come te lo vuoi giustare se è una cosa veramente particolare qui c'è il titolo e poi più o meno di che cosa si tratta può essere anche other quindi proprio una cosa molto particolare non riesci a trovarla e va bene così c'hai la preview quindi per vedere come si vedrà l'anteprima la descrizione qua il tier l'immagine e poi qui c'hai cose avanzate puoi limitare il numero dei patrons magari stai offrendo un supporto live con queste persone quindi non è che puoi magari telefono diciamo oppure fai skype con loro per un'ora se c'hai 10.000 persone che ti chiamano non ce la fai quindi ti conviene limitare il numero per esempio oppure se stai qui shipping address quindi indirizzo di spedizione se devi spedire dei gadget eccetera secondo me per cominciare lascerai perdere i gadget perché comunque non sai bene come andrà rischi di rimetterci ok cosa puoi proporre diciamo a livello di premi di tiers di riconoscimenti no puoi proporre ad esempio dei racconti brevi puoi proporre degli estratti dai tuoi lavori puoi cercare di coinvolgere di più i tuoi fan i tuoi patrons nella creazione del tuo libro chiedergli come fa Craig Martell per esempio che nome gli piacerebbe dare ai nuovi personaggi o che location se vogliono darti dei consigli cambiare la storia eccetera eccetera ti puoi sbizzarrire può essere anche semplicemente un video dove ringrazi personalmente queste persone pure non lo so un segnalibro come ho fatto io ad esempio lo crei con Canva in pdf la gente se lo scarica tutto carino fatto bene se lo puoi stampare in due secondi ritaglia e c'è un bel segnalibro da te ok quindi insomma sbizzarrisciti le idee possono essere tantissime l'importante è che crei qualcosa che comunque possa interessare a chi ti segue perché è inutile che tu sei uno scrittore e poi qua vai a proporre non lo so altre cose che non c'entrano niente ok per esempio recensioni di dischi recensioni esclusive di dischi cioè non c'ha proprio senso ok quindi niente qui allora andiamo a vedere il resto qui come vieni pagato puoi scegliere mensilmente ok oppure in base alle creazioni che fai e qui metti in euro ovviamente e qui come guadagni quindi qui andrai a collegare cliccando qui il tuo paypal dopodiché andiamo a vedere page settings impostazioni della pagina metti tutte le altre cose che ti interessano ok puoi mettere la visibilità della pagina la visibilità scusa di quello che guadagni se è privato oppure pubblico e il numero dei patterns puoi metterlo pubblico oppure privato ok infine qui metti tutti i tuoi link ai social in automatico basta che clicchi su connect qui se hai contenuti per adulti devi specificarlo qui se usi google analytics probabilmente non lo farai e qui l'audio se c'hai un podcast ok poi qui insomma hai le note i messaggi di benvenuto che dovrai personalizzare in base al tiers che la gente va a scegliere i tuoi goal quindi per esempio clicchiamo qua andiamo a vedere se è un goal un obiettivo basato su guadagni oppure su una community quindi il numero dei patterns qui stabilisci quanti patterns vuoi raggiungere e qui la descrizione puoi anche aggiungere altri obiettivi magari hai finito hai completato l'obiettivo ne hai bisogno di uno nuovo è una cosa carina per aumentare l'engagement qui c'hai post puoi creare il tuo post tranquillamente molto facilmente post che adesso andiamo a vedere vedi come ti dicevo prima quando li crei dopo puoi selezionare chi potrà vederli magari un post scritto di qualcosa ok e chi lo può vedere è pubblico tutti i patterns oppure solo quelli che seguono un certo tiers un certo piano ok questo è molto importante perché vuoi dare premi giusti i contenuti giusti ai tiers ai piani corretti ok quindi adesso torniamo indietro non ci interessano quindi discard page che altro c'era ah le offerte questo qua è un altro strumento molto potente che è stato introdotto di recente quindi è un'offerta speciale a tempo limitato quindi ad esempio puoi mettere ringraziamenti personalizzati o il titolo eccetera le date da quando a quando descrivere di che cosa si tratta è un incentivo a iscriversi alla tua pagina patron ok quindi vedi te tu c'hai comunque la possibilità di personalizzarli completamente e vedrai qui poi qui clicchiamo su promote quindi abbiamo le offerte speciali che ci siamo già abbiamo anche un pulsante se lo vuoi inserire nel tuo nel tuo sito e poi qui su income abbiamo i guadagni le statistiche eccetera eccetera puoi vedere tutte le cose ok in dettaglio quindi questo qua insomma è una panoramica di patron come dicono in US in America quello che ti dico io è non aspettarti migliaia di fan immediatamente le cose vanno piano puoi averne alcune decine e va bene così piano piano aumenteranno quando aumenta la tua fanbase in automatico si spera aumentano anche i tuoi patrons oltre a questo un consiglio più che un trucchetto no in pratica si sono accorti a patron che un sacco di iscritti di appunto creatori di contenuti di patron notavano che all'inizio i loro guadagni erano in salita quindi avevano tante iscrizioni e poi a un certo punto raggiungevano un plateau quindi una calma piatta diciamo e non riuscivano più a aumentare il numero dei patrons e un consiglio molto utile che davano era appunto non solo usare le offerte speciali che trovi qua su promote ok per incentivare nuove iscrizioni ma anche magari rivedere i tuoi tiers ok quindi rivedere ciò che offri perché perché in realtà non è che quello che crei non si può cambiare mai più ci sono a volte tu provi delle cose non riesci a starci dietro magari è promesso che tutti i giorni quelli che si iscrivono tu tutti i giorni produrrai un nuovo racconto a un certo punto non ce la fai e collassi per terra che fai? puoi cambiare i tuoi tiers vedi? clicchi qua su edit tier e puoi ricambiarli come vuoi ma devi sempre avvertirli ovviamente dare tempo a quelle persone i patrons che ti pagano di chiarirsi le idee bene è tutto per oggi patrons dacci un'occhiata alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.